Fermi in aperta campagna, al buio, infreddoliti ed arrivati finalmente a destinazione dopo otto ore in treno. Questa l'odissea di 15 viaggiatori partiti già con un'ora e mezza di ritardo da Torino alle 19.05 ed arrivati a Cuneo nella notte. L'allarme è scattato intorno alle 23, quando la polizia ferroviaria di Torino ha comunicato alla questura di Cuneo che un treno della Torino-Cuneo, a causa di un'avaria, non era giunto alla stazione di arrivo ed era fermo da circa due ore in un punto non precisato della linea ferroviaria. Dopo aver contattato il capo treno, il quale ha riferito che i viaggiatori erano al freddo perché non vi era corrente elettrica e che tra questi vi era una ragazza che scivolando si era procurata una distorsione alla caviglia destra, sono incominciate le ricerche. Ricerche che sono durate un'ora e grazie anche alla collaborazione di un passeggero in possesso di un iPhone hanno avuto esito positivo. Raggiungere il treno però non è stato facile. I poliziotti e i vigili del fuoco, infatti, sono stati costretti a scendere da una riva con un dislivello di oltre 15 metri nei pressi del nuovo svincolo dei ronchi dell'autostrada Cuneo-Asti e a percorrere alcune centinaia di metri al buio nei campi innevati. D'intesa con il coordinamento regionale delle Ferrovie Italia di Torino, poi, il dirigente della squadra mobile Luigi Chilla ha deciso di trasferire tutti i passeggeri sul convoglio ferroviario arrivato da Fossano. Una volta arrivati nella stazione cuneese di San Benigno, quindi, i viaggiatori sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa, per poi raggiungere, a bordo degli automezzi di servizio della polizia e dei vigili del fuoco, la stazione ferroviaria del capoluogo. Così, concluse intorno all'una e mezza di notte le operazioni di soccorso, si è conclusa anche l'odissea per i 15 viaggiatori, che partiti da Torino hanno impiegato ben otto ore per raggiungere Cuneo. Grazie. Grazie.